Ciao e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano tutto al femminile dedicato alla crescita professionale e imprenditoriale di noi donne. Nella puntata di oggi partiamo dal presupposto che quando lanciamo un nostro progetto sul mercato, quando abbiamo la nostra startup, spesso siamo da soli. Il fatto di essere da soli non aiuta con la motivazione, a volte ci scoraggiamo più facilmente, anche perché essere da soli significa crescere molto lentamente. Però c'è una strada alternativa, una strada che ci invita ad utilizzare e a fare leva sulle ricchezze che già abbiamo a disposizione. Proprio di questo e di come fare questo parleremo insieme all'ospite della puntata di oggi, che è Paola Poli, ceo e fondatrice di Women Security. Quindi, primo step, ricordati di dare un'occhiata al sito beats-academy.it e oltre all'occhiata di iscriverti gratuitamente alle newsletter, perché in questo modo non soltanto riceverai i nuovi episodi che arrivano di Impact Girl, sia la versione audio che la versione video, ma potrai ricevere anche i beats confidential, beats pillole che condivido soltanto ed esclusivamente via mail con suggerimenti e spunti pratici per far crescere la tua attività. Step 2, goditi la puntata dall'inizio alla fine. Step 3, basta, ho finito. Paola, quando si avvia una startup o un progetto imprenditoriale, lo si fa spesso cercando di realizzare tutto da sole, il che in un certo senso è quasi un obbligo all'inizio, soprattutto se iniziamo con un budget limitato, se non abbiamo risorse, se non sappiamo dove andarla a cercare, però è un pochino una tendenza, no? Quello di far fatica a delegare anche dopo, quando magari possiamo permetterci di farlo, facciamo fatica a chiedere aiuto, facciamo fatica... insomma, tendiamo un po' a... non so se è una cosa solo femminile, ma non credo, tendiamo un po' a prenderci la responsabilità di tutto quanto, perché desideriamo avere il controllo su tutto, però questo ovviamente non ci può aiutare a crescere. Io so che tu hai coniato un termine che è molto, molto bello, molto interessante, che si chiama costellazioni di partnership, che ci può aiutare, dimmi se sbaglio, in ogni fase della nostra startup o del nostro progetto per crescere, giusto? Esatto, ma c'è una cosa in cui io ho sempre creduto molto e che mi ha sempre aiutato molto in tutte le mie esperienze lavorative, sia quando in Pirelli andavo in giro per il mondo, sia in Accenture, sia poi nei progetti che ho sviluppato di seguito. Ed è che il fatto di saper individuare le sinergie tra le cose e creare delle costellazioni di relazioni o di partnership o di alleanze che possono in qualche modo, come dire, avere dentro loro stesse una linfa per andare avanti, per me è sempre stato un meccanismo di successo. E così quando ho pensato, ho avuto un'idea per creare una startup, anzi ne ho avute più di una, però questa è quella su cui mi sono focalizzata in questi ultimi anni, ho pensato subito ma quali potrebbero essere gli attori che con il loro contributo potrebbero non solo avere delle sinergie nell'entrare in questa startup, ma potrebbero far funzionare molto meglio la startup e aiutarmi meglio a raggiungere l'obiettivo. Questo sostanzialmente, per cui ho pensato a questo concetto di costellazione di partnership anche quando ho avuto l'idea della startup e ho pensato di farla. La startup a cui mi faccio riferimento è una startup in particolare innovativa, ha vocazione sociale, si chiama Women's Security, è womensecurity.com e l'obiettivo, la nostra mission è quella di riuscire ad aggregare tutto quello che può aiutare le donne nella prevenzione della violenza e comunque di qualsiasi forma di attenzione negativa attraverso il coinvolgimento e l'utilizzo degli esperti e delle tecnologie. Capirai che già il costrutto dice ok, voglio fare qualcosa di concreto per aiutare la prevenzione della violenza delle donne, ma come voglio fare qualcosa di concreto? voglio farlo utilizzando le nuove tecnologie, utilizzando gli esperti di security, di intelligence, in un modo nuovo rispetto a prima. Quindi di fatto, avendo chiara, nel tuo caso specifico di Women's Security, la mission, quindi il perché e il che cosa, ti sei chiesta a questo punto ok, devo costruire delle costellazioni di partnership, quindi quali sono le persone, gli interlocutori, a cui posso rivolgermi per chiedere un supporto, immagino di vario tipo. Spiegaci meglio questo processo, quindi tu sei a tavolino, metaforicamente parlando, hai il tuo business plan e devi inserirci queste costellazioni di partnership. Come cominci? Come l'hai fatto poi? Ma io sono andata da quelli bravi, dai più bravi nel tutelare la tua sicurezza e nel prevenire, prevenirti dalle situazioni di rischio. Quindi sono andata da grosse società nazionali e multinazionali che operano sia in Italia, sia all'estero, nei settori della sicurezza personale, della sicurezza per le aziende, nella sicurezza per le città. Sono andata da loro e ho detto guardate, noi abbiamo questa mission, vogliamo veramente aiutare le donne a dargli qualcosa di concreto per prevenire le situazioni di rischio, non solo aggressioni da esterno, ma anche violenza psicologica, sexual harassment, tutti gli ambiti, cyberbullismo, bullismo, tutti gli ambiti in cui noi possiamo, noi o i nostri cari, quindi i nostri figli o i genitori anziani, possiamo essere attenzionati in modo negativo e sono andata da loro a costruire, a proporgli di costruire assieme qualcosa di nuovo per le donne che lo potessero aiutare. Allora tu dici che cosa, che situazioni ti sei trovata davanti, anche perché non è così consueto per le donne pensare al mondo dell'intelligence come qualcosa che ci possa venire in aiuto, no? Vabbè, io ho avuto l'opportunità di conoscere tutto questo mondo quando viaggiavo tantissimo in giro per il mondo con Pirelli, quando ero marketing and communication manager per tutti i paesi, Asia, Arabi e via di seguito, insomma eravamo particolarmente monitorati per ovvie ragioni e quindi questo mi ha permesso di sapere che cosa loro possono fare e quindi il livello di indicazioni che ti possono dare, le conoscenze che hanno e anche le tecnologie di cui possono disporre per noi sono una risorsa favolosa. Ti faccio un esempio, il primo giorno che io sono tra i nostri partner c'è United Risk che è una società specializzata nella sicurezza anche della creazione di nuovi operazioni immobiliari, quindi non solo fa sicurezza della persona privata ma soprattutto sicurezza legata diciamo al costruire nuovi modi di vivere, alle smart city e via di seguito, più sicuri e quando sono entrata da loro mi sono trovata di fronte ad una centrale operativa grandissima, piena di megaschermi, piena di esperti, di professionisti. Ti sembrava la sensazione che io ho avuto e te la dico così in modo che riesco a renderla, la sensazione che ho avuto è stato di trovarmi a CSI Miami. Era CSI Milano ma era come CSI Miami. Per cui da lì vedi e controlli parti importantissime della città, attività e hotel, dal negozio di... vabbè non posso dirlo perché è riservato, però ecco, quando io ho visto questa cosa ho detto meraviglioso, schermi, esperti che ti rispondono al telefono per qualsiasi esigenza che tu abbia e a questo punto io ho detto non si può mettere una linea telefonica anche per le donne, aggiungere un telefono, un numero anche per le donne, avete già una cosa meravigliosa, possiamo aggiungere questo. E quindi il presidente di questa società che ha molto a cuore le tematiche relative alla sicurezza delle donne perché per sua esperienza ha visto quanto sia difficile riuscire a proteggerci e ha aderito a questa mission ed è stato felice di entrare in partnership con Women's Security. Questo è bellissimo questo è per farti un esempio che mi fa capire una cosa importante, due cose importanti, la prima che sarebbe utile aver già coltivato un network di potenziali partners, interlocutori, figure che in qualche modo possono darci una mano. Non è sempre facile, quindi la prima domanda che ti faccio a seguire è se non ho la fortuna o un bagaglio esperienziale che mi ha consentito come nel tuo caso di aprirmi ad un mondo che diventa poi funzionale ad un mio progetto e devo partire da zero. Ho quest'idea pazzesca ma devo approcciare questi players che possono rivelarsi irraggiungibili alle volte. Come fare? E una parte della risposta l'hai già data perché quando hai nominato questa persona che di fatto sai e sapevi essere particolarmente sensibile a questa tematica per questioni personali è chiaro che quello è già un fattore in comune. Sai già che questo potenziale player per quanto irraggiungibile perché magari non hai un contatto diretto però può rimanere colpito da un progetto che in qualche modo è affine ad un suo interesse di stampo sociale o meno che sia. Che altri mezzi possiamo suggerire di utilizzare ad una donna che si trova anche un po' intimorita di fronte a un mondo che non le appartiene non le è mai appartenuto come quello corporate se i players sono nel mondo corporate o che semplicemente ha paura di esporsi perché dice caspita io non sono nessuno parto da zero ma chi vuoi che mi ascolti? Brava hai detto bene io non sono nessuno parto da zero chi vuoi che mi ascolti e questa è una cosa fondamentale perché anche io avevo questo retro pensiero però poi per tutti i progetti che ho seguito mi sono resa conto che se tu hai un progetto bello che può andare in sinergia con gli obiettivi anche del tuo interlocutore vieni ascoltato e riesci a catturare l'attenzione e ti dico una cosa che i partner la costellazione di partnership che io ho all'interno di Women's Security sono tutti partner che io non conoscevo ok io sono andata da loro con una proposta con una con questa idea con un business plan e a loro è piaciuta l'idea hanno voluto aderire un'altra ti faccio un altro esempio e ho anche sono entrata anche in contatto con mondi che io non avrei mai per esempio che non avevo mai conosciuto prima il una delle società che con cui siamo in partnership è la Sigint è la capogruppo di sei società che ci sono in giro per il mondo che si occupano tutte di sicurezza e anche di intelligenza artificiale applicata alla sicurezza e si occupano di travel security e fanno quindi queste società danno tutta una serie di servizi ai governi e alle aziende di altissimo livello e il il riferimento di questa società che ha creato queste queste società è un generale dell'esercito quindi anche mondi se vuoi rispettano i donne abbastanza lontani e lui ha creduto molto in questo è stato uno dei primi a credere in women security perché effettivamente il pensiero che tutte queste cose possano essere utili anche per le donne che sostanzialmente è il nostro diciamo punto fondamentale è un pensiero al quale lui ha aderito da subito ha detto sì è vero hai ragione noi potremmo mettere a disposizione alcune delle nostre cose per le donne e allora tu vai da quella che è scusami da quelli che sono i portadocumenti che ti impediscono che ti vengano rubati la carta di credito o i dati del cellulare mentre sei in metropolitana sai che basta che uno ti avvicini e ti può rubare sostanzialmente tutti i tuoi dati e loro hanno sviluppato dei tessuti speciali che impediscono questa cosa e questa cosa così come è venduta in certi ambienti può essere disponibile anche per le donne quindi le cose che si possono fare sono svariate le app sul cellulare piuttosto che il braccialetto salva vita ecco anche lì un'altra visto che noi vogliamo aggregare tutto quello che ci può essere utile ultimamente abbiamo testato anche un nuovo dispositivo salvavita che ha una che si chiama Blue On Active e anche lì un esempio di costellazione di partnership noi abbiamo per loro testato questo dispositivo con il nostro team di ambassador di Women's Security e loro hanno reso disponibile questo dispositivo e quindi non solo facciamo diamo delle cose alle donne ma testiamo anche le nuove tecnologie che entrano sul mercato come questa che è molto interessante perché ha una durata lunghissima rispetto per esempio al cellulare che magari ti si può scaricare piuttosto che e quindi diciamo è anche un mondo è una non solo una costellazione di partnership ma è anche una costellazione di cose che ci possono essere utili che vanno dai corsi di formazione fatti dagli esperti di intelligence alle app e tecnologie che possiamo avere a disposizione fino anche al coinvolgimento perché no delle assicurazioni perché tradizionalmente nella nostra società chi ha pensato alla prevenzione le assicurazioni le grosse compagnie assicurative hanno anche loro delle cose che potrebbero essere meglio rese disponibili alle donne per prevenire tutelare la loro sicurezza quindi se dovessi questa non sono un amante delle formule però quando si parla almeno insomma applicate alla vita quelle non esistono però applicate al business perché no allora nel momento in cui quello che tu mi dici abbiamo pensato alle app abbiamo pensato agli aspetti del contesto militare che in effetti possono rivelarsi funzionali ad un contesto di sicurezza anche applicato ad un contesto non militare abbiamo pensato alle assicurazioni quando tu lo dici dico ah caspita è vero ah caspita è vero ah è vero però mi immagino di fronte a questa tela bianca che dovrebbe ospitare il mio business plan magari sono da sola o comunque siamo un gruppetto molto piccolo non siamo ancora avviate da un punto di vista proprio relazionale di rapporti di network e sono lì che dico ok da dove parto che domande mi devo fare se esistono non lo so tre o cinque domande da farmi per sbloccare queste idee e dire ah caspita questo potrebbe essere un player a cui non avevo pensato perché sembra lontano mille miglia dal mio mondo ma in effetti potrebbe essere funzionale al mio progetto c'è qualche domanda che ti sei fatta o che consigli di fare di fronte alla tela bianca? allora io ho un metodo ho un metodo un po' empirico cioè dato il problem to solve quindi fare in questo caso fare qualcosa che aiuti la prevenzione e diminuisca un po' i numeri che vediamo di violenza sulle donne nelle sue varie forme vado a vedere che cosa mi può essere utile guardando anche che cosa succede sul mercato gli ultimi trend e quindi identifico anche gli attori che per me possono essere interessanti da coinvolgere e ti faccio e tu dici come li contatti e io vado anche direttamente a contattarli per esempio il quarto partner di Women Security è una esperta a livello europeo di Krav Maga quindi ha sviluppato un metodo fantastico di difesa personale basato sul si chiama iRespect e io ho sentito molte referenze positive su di lei e che come ho fatto a contattarla sono andata ad un convegno dove lei parlava quando ha finito di parlare sono andata da lei le ho dato la mano le ho detto sono Paola Poli ho creato Women Security e mi piacerebbe che tu fossi il nostro partner cioè io sono molto diretta forse perché ho lavorato non so sicuramente questo è un pregio che forse mi arriva dall'aver lavorato per dieci anni in una multinazionale americana come Accenture e gli americani sono molto diretti in quello che vogliono magari prima ti dicono quello che vogliono e poi chiacchierano noi invece italiani prima chiacchieriamo e poi ti diciamo quello che vogliamo ecco questo è un approccio che ho molto diretto non prendo tanti non prendo tanti giri e questo secondo me con le persone paga perché sei più trasparente sei più diretta probabilmente resti anche impresso nella mente di più figuriamoci con un'email adesso immagino il dire ok mando un'email uno non sai a chi arriva due non sai a chi mandarla tre può finire nel cestino e tu non lo saprai mai quattro non finisce nel cestino ma la legge è la persona sbagliata per cui non raggiungerà mai l'interlocutore giusto cinque questa sono io ti convinci che è stata letta ma non gliene frega niente quindi tu non vali niente quindi no veramente ci sono delle storie che poi ci raccontiamo allucinanti che laddove è vero che poi presentarsi di persona magari incuta un po' di timore perché caspita dici non lo so magari io non sono così diretta non sono così pragmatica però se l'idea è chiara effettivamente sull'obiettivo con cui sei andata lì porca miseria dovremmo riuscire ecco a tirare fuori non voglio dire le palle perché poi è una metafora estremamente maschilista ma quello che voglio chiederti è questo ci sono a proposito appunto di idee chiare tu hai le idee chiare sul tuo progetto hai sempre le idee chiare anche su come l'interlocutore potrebbe supportare il progetto oppure a volte vai lì e l'idea di partnership nasce dopo allora io vado da un interlocutore quando secondo me ci sono delle possibili sinergie e quello che succede è che quando lo incontro rispetto a quelle che sono le sinergie che io posso avere magari ipotizzato parlando assieme ne vengono fuori anche delle altre oppure in alcuni casi magari si realizza che il momento non è ancora maturo che magari ci potrà essere un'evoluzione fra un anno e quindi diciamo riusciamo a settare meglio quelle che sono le aspettative però ecco una cosa che ti volevo dire che secondo me è molto importante anche per le ragazze più giovani non abbiate mai paura di andare ad incontrare qualcuno di andare a proporre la vostra idea e di essere anche di farlo in modo molto diretto e soprattutto ecco laddove riuscite a capire che ci può essere un win-win da parte di tutte e due le controparti diciamo questo volevo anche fare un esempio concreto in un altro ambito anni fa io sono stata sono entrata nel consiglio direttivo dell'associazione dirigenti della Lombardia mi avevano proposto di candidarmi io non l'avevo tra l'altro mai fatto io poi sono una apolitica non assolutamente non è pensavo quasi che non fosse nelle mie corde invece mi sono ho detto ma si proviamo mi sono perché poi mi piace anche provare cose nuove ho detto proviamo mi sono candidata e incredibilmente ho preso più di 800 voti una cosa veramente per me tuttora inspiegabile e a quel punto mi hanno chiesto ma tu che cosa faresti per questa associazione no e allora io ho detto io farei qualcosa per le donne per le donne dirigenti e quadri che sono comunque una popolazione in grande crescita grande togliamo il grande comunque una popolazione in crescita perché nell'industria non c'è stato questo sviluppo come magari in altri settori e quindi ho detto io farei qualcosa costruirei qualcosa per le donne e a questo punto ho pensato qui siamo a Milano che cosa possiamo fare per le associate per supportare e facilitare il network nella loro carriera la formazione mi hanno detto costruiamo un corso di formazione per i dirigenti interno e io ho detto ma che siamo a Milano c'è il sole 24 ore c'è la Bocconi c'è il Politecnico ma io casomai vado da loro e gli chiedo di fare qualcosa assieme per le donne dirigenti nell'industria perché ecco per me queste sono ricchezze del territorio quindi vedi io ho subito pensato a chi lo fa bene a chi fa le cose fatte bene nel supportare la carriera o il networking e ho pensato subito di andare da loro per proporre di fare delle cose assieme e in questo io per dirti quando io sono andata al sole 24 ore non li avevo mai incontrati non conoscevo nessuno dentro di me ho detto adesso vado lì con questo progetto e magari mi prendono per pazza oppure dicono va bene abbiamo sentito tante invece devo dire che soprattutto l'idea di creare un premio per le donne di merito e talento nell'industria che era una cosa che non esisteva e che noi abbiamo proposto con l'obiettivo proprio di far emergere e mettere in luce quante donne di merito ci sono nell'industria italiana è stata una cosa su cui per esempio il sole 24 ore si è dimostrato subito entusiasta ha detto certo questa è una cosa che può avere il senso le donne dirigenti nell'industria sono ancora purtroppo meno del 15% e nonostante siano cresciute negli ultimi negli ultimi anni e soprattutto sono donne che noi donne che cosa facciamo lavoriamo tanto raggiungiamo i nostri risultati poi corriamo a casa dai figli e quindi siamo meno visibili se vuoi rispetto ad altri target quindi ho detto come possiamo dare una mano e soprattutto creare anche role modeling per le più giovani perché se tu come donna sei nascosta o ti si vede poco anche le più giovani non sanno che tu esisti quindi ogni anno noi premiamo 18 donne di merito e talento in Aldai Federmanager Minerva che sono donne che ci vengono segnalate dal mondo dell'industria e ogni anno ci sono profili meravigliosi e anche la giuria abbiamo costituito una grossa giuria con persone insomma provenienti dai vari ambiti sia politico che delle istituzioni che dell'industria e ogni anno il commento che io ricevo da tutti ci sono circa 12 giurati ma quante donne fantastiche che noi non avevamo neanche mai sentito nominare e quindi ci sono questo ha dato una particolare soddisfazione abbiamo anche fatto un libro dove abbiamo finora abbiamo premiato più di 100 donne e quindi abbiamo fatto un libro con i profili in modo che anche questo sia su internet e tra l'altro su Amazon scaricabile a 99 centesimi proprio perché abbiamo il link qui sotto perché abbiamo detto deve essere disponibile per tutte le ragazze al prezzo di un caffè questo è stato il nostro diciamo intento era per farti un altro esempio di un'altra idea nata e condivisa e che ha avuto successo creando sinergie ogni anno a queste 18 premiate viene regalato un master del sole 24 ore eccola lì quella è la sinergia il win-win esatto esatto vengono regalate la Lancome anche ci ha supportato tantissimo a tutte le premiate e anche ai giurati vengono regalate un kit particolare di prodotti della Lancome l'anno scorso abbiamo avuto l'inaspettato devo dire quasi per me adesione anche di un grossissimo importatore di diamanti in Italia che ha voluto regalare un diamante ad ognuna delle premiate a questo proposito vorrei aggiungere un dettaglio che tanto dettaglio non è stato quest'anno e non sarà probabilmente nemmeno il prossimo è legato all'aspetto dell'inclusività per chi è in ascolto tra le Beats Girls in ascolto e ha un progetto o avviato in mente che riguardi l'aspetto dell'inclusività come nel tuo caso è quello delle donne ma può essere un aspetto di inclusività di altro tipo esiste addirittura ad oggi un indice di inclusività che ho scoperto da poco che le aziende che viene utilizzata proprio come indice anche di apprezzamento da parte dei consumatori nei confronti delle aziende cioè in altre parole più l'indice di inclusività che queste aziende rappresentano all'interno e all'esterno è alto più riflette un indice di apprezzamento dei consumatori e viceversa quindi le aziende stanno dando anche quelle molto grosse un grande valore a questo elemento di inclusività anche per fini diciamo così capitalistici visto che sono aziende quindi non sono delle no profit quindi è giusto che sia così ma possiamo utilizzare quest'onda a cavalcare quest'onda a nostro vantaggio sapendo che anche interlocutori apparentemente irraggiungibili potrebbero invece rivelarsi molto sensibili a tematiche che in altri momenti storico-culturali potrebbero non essere così sentite quindi questo ci tenevo ad aggiungerlo perché credo che possa dare un po' di incoraggiamento anche a chi dice oddio da dove parto e dove vado a trovare questi interlocutori abbiamo detto che siamo partiti dal nostro need abbiamo le idee chiare sul cosa e sul perché sappiamo qual è il nostro target e abbiamo individuato una serie di interlocutori che vogliamo raggiungere o direttamente o al telefono o di persona poi troveremo ovviamente il mezzo migliore a seconda di ciascuna circostanza quali sono tre parti del tuo business plan proprio una volta stampato nero su bianco che consegni insieme alla tua presentazione alla tua presenza all'interlocutore di turno ci sono tre elementi che non possono mancare e che ti aiutano anche a distinguerti un po' da altre modalità di approccio ma allora guarda le tre parti che sicuramente ci sono nel mio business plan o comunque nelle proposte che io ho sempre fatto sono sempre state il fatto di promuovere qualcosa di nuovo che crei del valore non solo economico ma anche del valore per le persone a questo io sono molto attenta e la terza parte è che sia sostenibile il premier della Finlandia questa giovanissima e fantastica donna di 34 anni ha detto una cosa molto bella dobbiamo lavorare per creare un mondo più sostenibile e questo secondo me è una cosa come io dico sempre se ognuno di noi fa un piccolo pezzo riusciamo a creare qualcosa di grande e quindi questo tema della sostenibilità mi sta particolarmente a cuore sia perché tu lo sai che all'interno degli obiettivi di sostenibilità c'è anche quello dell'inclusion del gender gap sia perché io credo molto la sostenibilità sarà anche nei bilanci delle aziende e via di seguito credo molto nel fatto che le aziende abbiano un grandissimo ruolo nel miglioramento della nostra società io ho lavorato per dieci anni in Pirelli sui mercati internazionali per dieci anni in Accenture e ho proprio avuto modo di vedere quanto un'azienda può fare nel cambiare la cultura anche di chi non è necessariamente in azienda e quindi da questo punto di vista io penso che per esempio anche nella start-up Women Security che lavora soprattutto su di un tema sul quale c'è così tanto sommerso perché se tu ci pensi guarda anche il movimento Me Too che in realtà ha portato alla luce qualcosa che fino a prima veniva taciuto se tu pensi al fatto che sulla violenza sulle donne abbiamo solo un 11% di denunciato è incredibile questa cosa io penso io penso che in questo tema l'engagement delle aziende sia sul tema della diversity sia su tutto quello che ci può aiutare ad avere un'effettiva io non parlo tanto di parità ma libertà sia fondamentale l'engagement delle aziende è fondamentale un giorno a me è capitato di incontrare una ragazza che si era iscritta ad un master del sole 24 ore e che ad un certo punto mi ha detto Paola io non sono più riuscita ad andarci dico perché perché la sera avevo paura a tornare a casa con la 91 cioè questo è limitativo della libertà questa non solo non è parità ma questo è anche limitante della tua libertà della tua libertà come essere umano quindi tutto quello che ci può aiutare a costruire un mondo più sostenibile secondo me passa sia attraverso l'impegno della persona ma tanto anche io credo molto nell'engagement delle aziende che possono avere un grande potere detonatore su certi concetti e su certi e su certi anche stili di comportamento quindi possiamo dire riassumendo come tra pilastri decisamente l'impatto economico quello ci deve essere creare valore sì tu devi creare valore quindi creare valore economico l'aspetto della sostenibilità fondamentale e il terzo tassello no primo valore economico secondo valore per gli attori coinvolti anche come per le persone e terzo sostenibilità chiaro ottimo vedi elementi che ad esempio se io cerco su google come sviluppare un business plan non mi verranno mai mi viene fuori forse valore economico se tutto va bene e il valore per le persone però l'aspetto della sostenibilità è un elemento chiave che tra l'altro si ricollega all'inclusività di cui parlavamo prima come ben dicevi tu che oggi come oggi non solo è fondamentale e necessario se vogliamo insomma salvare la realtà di cui facciamo parte ma diventa anche un valore aggiunto nel momento in cui ci presentiamo ad un interlocutore di un certo rilievo e di un certo tipo Paola una donna che ammiri particolarmente che pensi dovremmo intervistare dopo di te per Impact Girl allora guarda devo dire che ho molte donne che ammiro e che ritengo e che vedo e che mi piacciono molto perché sono sia bravissime sia estremamente umane quindi poi magari ti mando la lista però visto che qui siamo in ambito un po' cinematografico la prima che mi viene in mente è la vice president di Sony Pictures che è Zelda Stewart è una donna molto molto in gamba e che sono convinta che potrebbe dare tantissimo in un'intervista alle ragazze che ci stanno ascoltando grazie mille io non vedo l'ora di conoscerla e di ascoltare anche il suo contributo devo dire che questo progetto di Impact Girl lo dico in termini un po' egoistici oltre al valore per chi ascolta sta dando un grande valore anche a me perché noi ci siamo conosciute di fatto grazie a questo progetto e questo mi fa pensare alle costellazioni di partnership perché poi insomma a volte magari le perseguiamo senza nemmeno rendercene conto io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata insieme è stata bellissima ricordo alle Beats Girls in ascolto che troverete tutti i punti salienti della puntata suddivisi minuto per minuto alla pagina web beats-academy.it slash forward podcast che comunque sarà indicata dappertutto quindi non preoccupatevi se siete in giro e state ascoltando il podcast perché avrete i riferimenti tra l'altro vi invito assolutamente a visitare la pagina perché sotto l'episodio la puntata sia video che audio troverete tutti i link a cui Paola ha fatto riferimento nel corso della nostra chiacchierata che potrete poi visionare con calma grazie ancora tantissimo grazie ciao questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Beats Academy puoi farlo visitando il sito beats-academy.it noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.